Nel weekend appena concluso si sono giocate le ultime partite di Serie B che hanno permesso alla Serie C 2020-2021 di prendere sempre più forma, o quasi. Sul campo sono infatti giunti i verdetti finali con la retrocessione di Trapani e Juve Stabia a fare compagnia a Livorno e con Perugia e Pescara che dovranno affrontarsi nell'ultima doppia sfida play-out per decidere chi si salverà e chi sarà l'ultima a salutare la cadetteria. Ma tutto sarà deciso ancora una volta fuori dal rettangolo di gioco ed in un'aula di tribunale visto che il Trapani ha presentato ricorso contro la penalizzazione di due punti e che la prima sezione del collegio di garanzia ha fissato l'udienza relativa per il 6 agosto a partire dalle ore 15.30 con la discussione che si terrà in videoconferenza. Proprio per questo la Lega di Serie B ha deciso di spostare la finale di andata dei play-out comunicando che non si disputerà più venerdì 7 agosto alle 21, bensì lunedì 10 agosto allo stesso orario e ritorno, come già previsto, si gioca alle 21 di venerdì 14 agosto. Questo perché in caso di accoglimento del ricorso e restituzione dei due punti o anche solo uno cambierebbe inevitabilmente la classifica. Se il Trapani riuscisse ad agganciare a quota 45 punti Perugia e Pescara per la classifica a Vulsa potrebbe disputare i play-out da quint'ultima contro il Perugia mentre il Pescara sarebbe condannato alla C-diretta. Se il Trapani riuscisse invece ad agganciare a quota 46 punti Ascoli e Cosenza sarebbe salvo e condannerebbe il Pescara alla C-diretta e il Cosenza a play-out contro il Perugia pur in una miglior posizione di classifica dei lupi rispetto al Grifo che insomma è certo di dover abbandonare la cadetteria e per ora solo la Juve Stabbia che si è goduta una sola stagione in Serie B.